Mi chiamo Nicola Zanon e sto per andare alle Olimpiadi. Ho passaporto thailandese ma sono per metà italiano o meglio trentino dove sono cresciuto. Ora sono in Val di Passa che mi ha dato una grande opportunità, quella di allenarmi dove si allenano gli azzurri ed altre squadre di Coppa del Mondo. La Val di Passa per me è perfetta per gli allenamenti, è una palestra a cielo aperto. Ogni giorno ho a disposizione un tracciato diverso con varie difficoltà. A presto! Alla prossima! Per me lo sci è una filosofia di vita ed è anche il mio futuro. Scio da quando sono bambino, a 16 anni ho smesso ed ora da un anno ho iniziato. E sono pronto ad andare alle Olimpiadi. Ci vediamo a Pyeongchang in Corea e porterò un pezzo di Val di Passa nel cuore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS